Una coppia eccezionale oggi all'ospedale San Paolo di Savona, reparto di pediatria e neonatologia. La vice campionessa mondiale di nuoto sincronizzato Linda Cerruti con il nostro cavaliere Mattia Villardita. Allora, siamo qua innanzitutto perché ci lega un'amicizia da ormai tanti anni, non solo con Linda ma anche con tutti i vigili del fuoco. Siamo venuti all'ospedale San Paolo di Savona in pediatria a casa nostra a consegnare un po' di uova di Pasqua e donare un po' di spensieratezza, di sorrisi e direi che ci siamo riusciti, no? Ci siamo riusciti, un'esperienza veramente bellissima. Di solito non mi capita di fare queste cose quotidianamente. Io vivo in acqua, anzi con la testa sott'acqua, però è veramente bello vedere gli occhi dei bambini come brillavano quando hanno visto Mattia che arrivava dalla finestra. Oggi l'abbiamo messa anche con la testa un po' per aria, visto che siamo arrivati dalla finestra, quindi è passata dall'acqua all'aria in un attimo. Quindi io ringrazio di cuore Linda per essere venuta a questo evento a cui tenevo veramente tanto. Grazie a voi di cuore, grazie davvero e buona Pasqua.